Barraiano è lo pareggio salvezza contro lo Sportland Celano, la formazione di Marco Antinucci a termine di una gara spigolosa e nervosa ottiene i tre punti importanti per la classifica. Subito la gara ai fuochi pirotecnici, dopo cinque minuti un cross volante di Ciampoli, il tiro di Cissé di poco fuori. Risponde lo Sportland Celano due minuti più tardi al settimo su cross di Pompili, taccone, la palla termina alta incredibilmente sulla porta di Addario. Al ventunesimo il Raiano passa in vantaggio, calcio di punizione battuto da Alessandro Tiberi, palla a girare, incolpevoli, portiere e piccone, 1-0 per il rosso-blu. Al trentunesimo però lo Sportland Celano trova il pareggio, Murazzo nell'anticipare i propri portiere lo inganna e consegna ai marsicani il gol della parità. Un primo tempo dunque che ha avuto due volte un inizio scoppiettante, una parte conclusiva un po' meno. Nel secondo tempo la gara si apre subito al secondo minuto con un'occasione per il Raiano. Ciampoli il pallonetto avendo visto il portiere fuori, la palla colpisce la traversa e torna sul campo. Al decimo minuto ancora il Raiano protagonista con il tiro di Amedoro di poco alto. Al diciottesimo è Dimascio che conclude a rete dopo una bella azione del Raiano, bella la parata di piccone in angolo. Al ventunesimo il gol partita del Raiano. Il cross da parte di Ciampoli, l'assistente alza la bandierina, poi la bassa subito. L'arbitro non mede all'assistente con la bandierina alzata. Poi Dimascio effettua il tiro e la palla si infila all'angoletto. L'arbitro concede gol tra le proteste dei giocatori marsicani. La gara si trascina stancamente. Al trentacinquesimo viene espulso Pinto del Raiano. Reo di aver protestato nei confronti dell'assistente. L'assistente richiama l'arbitro ed espelle il numero due del Raiano, Pinto. Al quarantaseiesimo l'episodio chiave del match. Pacchiarotta dunque, che ha la battuta della punizione. Attenzione, pallone dentro l'area di rigore. E c'è il calcio di rigore. Il calcio di rigore in favore del Sportland Celano per un fallo di mani. Batte Pacchiarotta e Addario compie il miracolo facendo esplodere il Cipriani, consegnando ai rosso-blu una vittoria di inestimabile valore. Pacchiarotta e la parata di Addario! La parata di Addario! Esplode il Cipriani! Marco Antinucci. Una gara molto importante, una vittoria importante ottenuta dalla sua squadra in un confronto per la salvezza. Era una partita importante, anche se eravamo fuori dai play-out. Comunque, Celano è una squadra sempre temibile. Non abbiamo giocato bene, assolutamente. Anche perché ne siamo pochi, veramente pochissimi. Non voglio piangere, ma non riusciamo neanche a arrivare a 12-13 persone. È un'annata un po' sfortunata, particolare. È chiaro che la posta in palio era alta sia per il Celano che per noi. Forse è stata un attimo esagerata la situazione. Quando riguarda la mia espulsione, si è alzata la panchina, in auto intera, l'albitro, il primo che ha beccato, sembra l'allenatore. Comunque, era importante la vittoria, va benissimo così. Dobbiamo continuare così, dobbiamo continuare. Diciamo, inizio molto bello in entrambe le squadre. Il Raiano ha ampiamente meritato di vincere. Però poi, a un certo punto della partita, un po' si è seduto, sull'1-0 ha un pochettino spento la sua squadra. Giustissimo, giustissimo la De Sani. Il problema è questo, è che ne siamo sempre gli stessi 11 a giocare. A volte, tipo il Capitano, Tiberi e Tiberi-Giorgio, non si possono allenare perché lavorano a Roma. Quindi, i primi minuti, la prima parte della gara la giochiamo bene ad altri livelli. Poi si scende perché è un calo fisiologico, è normale, pochi allenamenti. Diciamo, 5 fuori quota in campo alla fine. 4 all'inizio, poi è inserito i proietti e quindi è finito con 5. Tutte domeniche scriviamo 4-5 fuori quota. Ma parliamo non di 97, parliamo di 99-98. Sono ragazzi che comunque porto io da giù, da Pescara, da qualche prestito. Sono loro che devono fare la differenza in questi campionati. Non dimenticiamo che noi abbiamo fuori un certo Giovanni di Giannantonio, che secondo me è il difensore più forte, non della categoria, forse anche di una categoria in superiore, come è Marcello Mascioli, che li abbiamo persi ormai da un paio di mesi. Questi sono giocatori che ci danno sia qualità, anche centimetri, perché vediamo che comunque siamo un po' piccolini, siamo leggerini. Dunque, in primo tempo ho visto un Ciampoli nei primi minuti veramente, diciamo, stratosferico, forse un po' troppo esagerato, ma comunque in ottima forma. Poi invece nel secondo tempo forse loro hanno preso le misure, però alla fine quello che contava è quel gol importante che ha consentito a Raiano di... un gol contestato dallo sport all'anticellano, perché in primo momento sembrava che la Sessenda avessi alzato la bandierina. Allora, Mattia è un ragazzo che ha militato anche in Serie D e da ragazzo fuori quota ha fatto anche diversi gol in Serie D. Quando riguarda il gol sbandierato dal segnaline, la decisione ha preso l'arbitro, perché era un triangolo fatto fuori aree e c'erano ragazzi in area, giocatori avversari in area, quindi una decisione che ha preso l'arbitro, quindi non contestabile. Ricordiamo che abbiamo preso pure una traversa con Ciampoli, quindi è poi il miracolo di Daniele che ci ha veramente portato i tre punti a casa. Un rigore che ovviamente ha consentito a Raiano una parata, che ha consentito a Raiano di vincere la partita. Addario comporte il miracolo. Vabbè, noi stiamo parlando di Daniele Addario, ex portiere Pescara, C1, Serie B, quindi non dobbiamo commentare nemmeno la parata di Daniele. È chiaro che un portiere come Daniele ti porta durante la stagione, ti porta almeno sei, nove punti. Petrini, spulso Antinucci, espulso lei, sette ammoniti, un espulso nel Raiano, finale di gara nervoso, alla fine avete avuto la possibilità di pareggiare con il rigore sbagliato da Pacchiarotti parato da Addario, però diciamo è stata una gara che era importante il risultato di oggi, perché entrambe vi giocavate la salvezza. Sì, infatti era importantissima, infatti gli animi si sono un po' surriscaldati per un semplice motivo secondo me, perché l'arbitro non è stato all'altezza della situazione, perché nel momento in cui Raiano ha pareggiato, era in netto fuori gioco, di rientro il giocatore loro, l'assistente ha sventolato il fuori gioco, l'arbitro di testa sua ha fatto proseguire, ma non è la prima volta che questo combina queste cose. Purtroppo, lo devo dire, ma anche se è di Avezzano, perché io sono di Avezzano, quindi lo conosco abbastanza bene, ma o due sono le cose, o ci sta una certa incapacità e allora non mi vengano a dire sempre che li dobbiamo aiutare, li dobbiamo causare, perché poi quando uno si presenta in maniera presuntuosa, in maniera arrogante, che non puoi dire niente, e poi prendono delle decisioni cervellotiche, come questo, come ha fatto questo oggi, non è possibile, oppure c'è qualcosa contro di noi, perché questo ogni volta che ci viene arbitrare, è sempre così, noi dobbiamo stare sempre, subire sempre, ogni volta, ecco, le decisioni importanti le prendono loro, perché una partita equilibrata di queste, ti fai un gol in questo modo, innervosisci tutta la squadra, penso che a noi avrà munito non so quante persone, a Raiano il primo ammonito sarà stato, penso al sessantesimo, sessantacinquesimo, non lo so, quindi è una cosa, io dico, non mi lamento, perché purtroppo quando stiamo sotto, capisco pure, perché il problema è anche perché stare sotto, evidentemente la squadra trova un po' di difficoltà, non sarà tanto, però noi facciamo tanti sacrifici, mettiamo tanto cuore, lavoriamo durante la settimana, poi arrivano questi signori che la domenica decidono, perché le partite non è che a noi finiscono 5-0, e allora te ne vai a casa, noi finiscono sempre con un gol di scarto, e purtroppo lo decide sempre l'arbitro, e ora mi sto costatando questo, questo poi oltretutto, questo è qualcosa di incredibile, perché ce l'ha, io penso che a questo punto ce l'abbia proprio, con me personalmente, e con la squadra nostra, perché se no non si spiega, ogni volta che viene deve succedere sempre questo, perché ogni volta che viene fa innervosire la squadra, e succede sempre questo. Ovviamente la calcina è molto corta sotto, una sconfitta ovviamente pesante, però c'è tempo per rimediare. Sì, il tempo c'è per rimediare, infatti anche oggi secondo me è stata una partita bella, abbiamo giocato, non credo che meritavamo di perdere assolutamente, quindi noi siamo vivi, e ce la metteremo tutta, però ripeto, io sicuramente non ho paura di dirle cose, cioè questi, e in modo particolare questo signore di Goli di Avezzano, ogni volta che viene, deve sempre guastare una partita, penso che corretta in campo, che non c'è stata, anche se sugli spalti c'è stata qualche cosa, che devo dire, neanche quello va bene, accendini tirati che hanno colpito un nostro giocatore, Sassi, poi devo dire, riconoscere anche che qualcuno in panchina nostra si è comportato non benissimo, però questo è tutto dovuto dal nervosismo che ha creato un signore, che ogni domenica viene, arbitra e fa come ci pare, in mezzo al campo fa quello che vuole. Comunque, al di là di quello che è accaduto lì da panchina, il presidente Raiano poi è andato lui stesso a calmare gli animi, e quindi diciamo, speriamo che anche questi episodi, però in campo non si vedono più, in una giornata comunque dove il calcio è il lutto. Sì, sì, questo soprattutto, questo non doveva succedere, ecco, questo perciò non doveva succedere, quindi dovevamo abbassare tutti i toni, dovevamo stare un po' più tranquilli, purtroppo è successo una cosa, penso, una disgrazia assurda, e tutti ne siamo rimasti scioccati, forse anche questo, dalla notizia che si è presa, pure la mattina che io, quando ho visto i ragazzi, ho incontrato i ragazzi, erano tutti come se fosse successo qualcosa, ognuno, qualche parente, qualche cosa, perché erano tutti dispiaciuti, e penso così sia stato per tutte le squadre, quindi, in questo modo, si doveva cercare di non aizzare animi, di non portare la partita a questi livelli, insomma, poi, giustamente, io poi parlo con chi di dovere, loro mi dicono sempre che dobbiamo aiutarli, dobbiamo, però, insomma, bisogna anche che ci si faccia aiutare, se si vuole mettere su questo piano, diciamo così, la collaborazione tra gli addetti lavori e gli arbiri.